Buongiorno Cari amici fedeli Ringraziamo il Signore per queste giornate così belle Ci stiamo preparando per il presepe stasera Oggi 20 dicembre alle ore 19 Ci sarà questo presepe bellissimo Con la partecipazione sicuramente di tanti di voi E ringraziamo il Signore per questo evento Per questi ragazzi giovani Tutta la cittadinanza in un modo o nell'altro Si sta prodigando per questa realizzazione Per rappresentare per quanto meglio è possibile Umanamente la venuta del Messia La venuta di questo Dio che si fa bambino Io vi faccio tanti auguri Come parroco insieme al nostro vice parroco Che adesso in questo momento è impegnato anche lui per altre cose Vi faccio tanti auguri di un santo Natale Di un felice anno Da parte della parrocchia del santuario Maria Assunta in cielo In Casandrino Che veramente possa essere un Natale pieno di speranza Pieno di gioia, pieno di pace Che il Signore possa veramente aiutare tanti Nel lavoro, nella salute che c'è tanto bisogno E vi auguro veramente un 2015 Pieno di amore, di fede Ma anche pieno di gioia E cerchiamo di sorridere sempre Nonostante a volte la vita è difficile Ma Dio quando è nel nostro cuore Quando prende sede nel nostro cuore come Gesù bambino Tutto cambierà Tutto può cambiare Facciamo anche tanti auguri Alla comunità di Trenton in America A padre Thomas Che è il padre di questa comunità Dicendo che veramente Noi li sentiamo vicini E loro ci debbano sentire vicini Perché le distanze si accorciano Quando veramente si lega la fede In Cristo Gesù Ma in particolar modo Ci lega Maria Santissima Assunta in cielo In Casandrino La Madonna di Casandrino Allora tanti tanti auguri Fratelli che state lontani Lontani geograficamente Ma non sicuramente Lontani nella fede Nell'amore E nell'accoglienza Grazie Santo Natale Santo anno Santo inizio anno 2015 Che il Signore veramente Possia dare tanta gioia E essere lì E allora Tanti 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 auguri E Dio vi benedica Amo 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 Grazie a tutti